C'erano le elezioni europee, le regionali, serviva una mano, si è data una mano, questo l'ho scritto, ma comunque per chi mi considera il pupillo di Beppe Candolfo, alle regionali Beppe Candolfo era candidato per una lista, io ero la presidenzialista del Movimento Cinesto e non devi dire più il nero. Quando dici ti rispondo. E non devi dire più il nero. No, 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 io devo dire. Ah, scusami un attimo, se te la sei sentita, a me mi dispiace, però è vero, scusami. Il Movimento Cinesto è andato dopo le elezioni comunali, quindi è inutile che andiamo a riparcare, perché c'è chi è riscritta da un'altra parte. E non li dovete prendere all'interno del Meetup, perché sono degli ex politicanti e se ne devono stare a casa. Allora, scrivi sul blog di Beppe Grillo e fai mettere questa classe. No, ma il Meetup è una cosa, il Movimento Cinque Stelle è un'altra cosa. Ve l'ha detto pure Nuti, ve l'ha ripetuto. Non devo scrivere da nessuno, io dico le cose per come stanno. Io non sono nemmeno iscritto al Movimento Cinesto. E' un punto. Di Meetup e Movimento Cinque Stelle sono due cose distinte e separate. Lo avete detto pure voi. Gianluca, Gianluca, fammi finire, ora vanno. Dopo di chiedere. Buonasera, a lì c'entiamo. Dopo? Andiamo, andiamo, andiamo. Buonasera a tutti, buonasera. No, ma no, io c'è un vicino quattro anni che mi sono, ci prendiamo gli incendi e assente il suo risposto. Io sono sempre educato. Ho detto solo politicante, è una vita che fa il politico. Minacciami, 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 minacciami.